L'orizzonte degli eventi è rappresentato dal confine di un buco nero nello spazio. Ho speso molti anni nel tentativo di capire cosa succede veramente oltre quel confine. Come nasce un buco nero? Che fine fa tutta la materia che ingoia? In cosa si trasforma? Non ho trovato molte risposte, ma a queste domande ho sacrificato il tempo, l'amicizia, l'amore. Il giorno che è morto mio padre volevo andare a scuola lo stesso, ma non me l'hanno permesso. Non potevo immaginare che quel giorno avrebbe deciso quale uomo sarei stato per il resto della mia vita. Quali strategie di difesa avrei attuato per non sentire la sua mancanza? Quali corazzi avrei indossato per sfuggire il dolore? Adesso capisco che per tutti questi anni ho cercato dalla parte sbagliata del telescopio. Quel dolore è stato per me come un enorme buco nero. Non ho nessuna teoria per affrontare quello che mi circonda. L'unica cosa certa è che se niente ti tocca, niente può renderti felice. Grazie per la visione. Grazie a tutti.